musica 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 amici di atsport24 appassionati di pallanuto benvenuti ad una nuova puntata di waterpolo preview il settimanale che la guida i campionati di a uno maschile a uno femminile e a breve lo ribadisco si prepara ad accogliere anche la due maschile settimana di pausa per il torneo uomini per la concomitanza con i giochi panamericani ne ha approfittato il settebello di sandro campagna che in attesa di capire quale sarà la risoluzione adottata per gli europei che originariamente erano in programma a netania dal 3 al 16 gennaio 2024 ma sono a forte rischio per la situazione politico militare in un medio oriente che è decisamente rovente in questo periodo si è ritrovato e ha per tre giorni di collegiale a recco la squadra è tornata a lavorare per la prima volta dopo il mondiale di Fukuoka conclusosi con i piazzamenti di consolazione dopo l'eliminazione ai rigori nei quarti contro la Serbia andiamo subito a vedere il servizio all'interno del quale le dichiarazioni di Andrea Dedi Fondelli e di Gimo Nicosia faranno il punto della situazione e si soffermeranno su quelle che sono le prospettive per un anno decisamente particolare ancora più intenso ma forzo la mano altrettanto entusiasmante tre giorni per ritrovarsi e dare il lato una stagione davvero intensa che ancora prima di partire deve dipanare alcuni nodi fondamentali la situazione politico militare in Medio Oriente mette in farti in forte dubbio la disputa degli europei di Netania competizione che dovrebbe almeno teoricamente assegnare un passo olimpico il settebello però ha ben chiare in testa i suoi obiettivi centrare la qualificazione al torneo a cinque cerchi e competere da assoluto protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono l'attaccante della Prorecco Andrea Fondelli ed il portiere della B per Rarinante Savona Gianmarco Nicosia a portarci nell'atmosfera del primo raduno collegiale della truppa di Sandro Campagna e a soffermarsi sulle prospettive per i prossimi mesi Tanto era un collegiale utile da fare perché non ci vedevamo dalla fine dei mondiali non sappiamo tutti come sono andati ci rimastiamo ovviamente molto amare in bocca quindi questo era un primo appuntamento di una stagione lunga, impegnativa molto strana con tanti cambiamenti e sconvolgimenti non per ultimo quello appunto dell'Europeo Israele che probabilmente salterà almeno che non riescano a spostare da qualche altra parte ma non sarà facile e quindi niente ci siamo visti questi due o tre giorni a Recco facendo degli allenamenti appunto con la Prorecco era giusto fare qualche partita, qualche richiamino e poi la preparazione vera inizierà dal 13 dicembre quando si stopperà il campionato per gli europei mondiali o meglio, per i mondiali e per quanto riguarda il collegiale ripeto abbiamo fatto qualche richiamino di forza e poi un po' di tattica e al pomeriggio le partite con la Prorecco le prospettive appunto sarà un anno particolare in cui sarà fondamentale la gestione fisica ma anche mentale di noi giocatori perché avremo tante parti e tanti impegni sarà per tutti una cosa nuova e strana però anche molto motivante per comunque avere tanti impegni così importanti sono solo che uno stimolo e ovviamente il nostro obiettivo è in primi e secondi qualificarci per le Olimpiadi vedremo se dobbiamo passare appunto se ci sarà un europeo oppure dal mondiale quello è il nostro primo obiettivo poi se riusciamo anche a far bene in queste manifestazioni ben venga però l'obiettivo primario è quello di qualificarci per le Olimpiadi la strada sarà difficile perché come abbiamo dimostrato il mondiale scorso ci sono molte squadre competitive che possono arrivare in cima quindi il livello è molto equilibrato però anche noi abbiamo le nostre chance e faremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo questo collegiale è interessantissimo perché non solo possiamo giocare tra di noi quindi il set è bello ma anche confrontarsi contro una squadra fortissima la più forte del mondo del Recco quindi giocare contro i campioni è molto interessante comunque perché possiamo dimostrare il nostro valore contro dei campioni del genere quindi metterci a paragone con loro inoltre è l'inizio di un anno importantissimo gli obiettivi nazionali quali sono le prospettive sicuramente uno non vale Olimpiadi per partecipare quindi per vincere ma credo che sia proprio lo spirito olimpico questo prima di questo prima di pensare Olimpiadi però c'è da pensare alla qualificazione quindi le prospettive sono sicuramente arrivare con una buona dose e una buona forma fisica a fine anno sarà molto difficile da fare ma ci proviamo diciamo che questi tre giorni sono serviti anche a questo abbiamo fatto dei test fisici e anche in acqua quindi sicuramente non è da sottovalutare questo aspetto qui sì tante partite però bisogna fare di più bisogna metterci quel 10% in più quest'anno perché una battaglia d'ora non si porta a casa così chiudiamo così la parentesi dedicata alla nazionale passiamo ora ad occuparci di Serie 1 femminile che torna in vasca dopo il collegiale svolto da domenica a mercoledì dal sette rosa che si è ritrovato così come per gli omologhi maschi per la prima volta dopo il mondiale che si è però concluso in maniera radicalmente diversa per Capitan Palmieri e compagni con lo splendido bronzo conquistato nella finale di consolazione contro l'Australia si torna in vasca dicevo per i match valevoli per la quinta giornata e abbiamo posto la nostra attenzione sullo scontro di salvezza tra l'olio di Calabria IGP Cosenza Pallannuoto e la Comunotore Coaro siamo andati in casa della formazione Lombarda per parlarne abbiamo avuto ai nostri microfoni l'attaccante Anna Cassano Ciao Andrea grazie a te Anna io inizio la nostra chiacchierata chiedendoti come si può valutare l'inizio di torneo della Comunoto che è ancora ferma a zero punti anche in virtù di un calendario che certamente non vi è stato amico che giudizio esprimi sul primo scorso del vostro torneo? Sicuramente come hai detto il calendario non c'è stato molto d'aiuto infatti ci siamo trovati subito a doverci scontrare con delle squadre difficili abbiamo dovuto giocare la prima partita contro il Trieste subito dopo la Roma partite che comunque però ci hanno portato a capire qual è il nostro livello e gli aspetti su cui possiamo migliorare per giocarci meglio le partite che sono più del nostro campionato quelle che reputiamo più alla nostra portata Hai parlato della comprensione degli aspetti del gioco su cui si può migliorare ti chiedo allora dov'è che può crescere questo gruppo che poi è stato ulteriormente rinnovato e ringiovanito alla fine dell'estate quando hanno abbandonato la squadra due colonne come Ginevra Frassinelli e Gaia Lanzoni? Sicuramente la perdita di queste due ragazze Ginevra Frassinelli e Gaia Lanzoni ha costretto la squadra a rimboccarsi le maniche e a impegnarsi di più gli aspetti su cui possiamo migliorare sono tanti sicuramente uno di questi penso sia l'intesa tra le compagnie di squadre perché appunto perdendo questi come le definiti pilastri la squadra ha perso un po' questa intesa che stiamo assolutamente cercando di recuperare il più in fretta possibile per comunque avere una maggiore sicurezza sia nella fase di attacco che nella fase di difesa Che cosa significherebbe per la Comunoto centrare ancora una volta la salvezza e confermarsi nell'elite del panorama nazionale? Sicuramente un'altra salvezza sarebbe molto importante come risultato per la società ma soprattutto per noi ragazze che comunque riusciremmo a dimostrare che nonostante le perdite e il cambiamento della formazione la Comunoto riuscirebbe a restare e riaffermarsi nella massima serie del campionato femminile Vi attende ora il confronto diretto contro l'Olio di Calabria e GP senza palla a nuoto che partita ci aspettiamo? Ci aspettiamo una partita molto difficile e combattuta fino alla fine saranno quattro tempi molto di sforzi, di fatica saranno molto duri ma l'obiettivo sarà quello di vincere e portare a casa i primi tre punti per la nostra stagione Ringraziamo Anna Cassano per essere intervenuta passiamo ora ad occuparci della presentazione dei match in apertura la formazione calabrese riceve tra le muramiche la Comunoto Recoaro padrone di casa a caccia del secondo successo nel torneo dopo quello ottenuto nello scontro salvezza con l'unione sportiva Luca Locatelli le lariane che cercano invece i primi tre punti della loro stagione per sbloccarsi e iniziare la rincosta verso un nuovo grande capolavoro che sarebbe quello dell'ennesima permanenza in massima serie l'equipo Orizzonte Catania reduce dal successo fondamentale in Champions League contro l'Asist incrocia sulla sua strada la Netafim Bojasco 1951 mentre le Capitoline affrontano in trasferta le ragazzine terribili allenate da Andrea della Zuana la pallannuoto Trieste che nell'ultimo turno di Eurocappa ha vinto di goleada contro le francesi del Grand Nancy attende alla Bianchi la Briznuoto che vuole un risultato di prestigio per lanciare definitivamente le sue ambizioni in chiusura di programma il assisteremo al match clou tra l'antenore Plebiscito Padova e il Rapallo Vallannuoto siamo così giunti al termine anche di questa puntata io non posso far altro che ringraziare gli ospiti intervenuti e darvi appuntamento per la prossima puntata Grazie a tutti